Ed è il secondo sbarco nell'Agrigentino nel giro di pochi giorni, dopo il peschereccio con a bordo una trentina di magherebini, giunto nella zona di Castellaccio a Palma di Montechiaro, nella notte arriva un altro barcone sulle spiagge di Pisciotto a Licata. Stavolta lo sbarco finisce in tragedia, dopo aver attraversato il canale di Sicilia, uno di loro non ce l'ha fatta, giungendo sull'arenile in fin di vita. L'allarme è scattato nella notte, quando alcuni passanti hanno avvistato il barcone e hanno avvertito i poliziotti che hanno soccorso le 18 persone appena giunte sulle spiagge alicatese. Dopo le operazioni di soccorso, il corpo di uno di migranti nordafricani arriva sulla spiaggia, spinto dalla corrente, e un uomo di circa 25 anni, morto probabilmente per annegamento, salve le altre 18 persone, tutti maschi di nazionalità egiziana, tra di loro anche otto minori. Hanno i vestiti bagnati, ma stanno tutti bene. I migranti hanno raccontato alla polizia di essere stati gettati in acqua dagli scafisti, una volta giunti in prossimità della costa, prima di prendere il largo, e di essersi spinti fino alla spiaggia, nuotando. Adesso sono in corso le indagini dei militari per fare chiarezza su quanto accaduto, mentre l'allarme sbarco si fa sempre più alto. Le ottime condizioni meteo potrebbero infatti favorire la ripresa dell'esodo dei paesi nordafricani.